In studio, Viviana Sammito. Buonasera, in apertura la prevenzione a rischi incendi, uno dei temi centrali, vista le alte temperature. Il governatore della regione sta puntando su più squadre per prevenire questo incendio. Ha firmato un accordo con i vigili del fuoco. Il punto nel servizio. Rinnovato e finanziato per 2 milioni e mezzo l'accordo tra la regione siciliana e i vigili del fuoco in previsione degli incendi in vista anche delle alte temperature. Saranno potenziate le squadre aggiuntive e antincendio. La convenzione sottoscritta resterà in vigore fino al 13 settembre per azioni sia di prevenzione che di contrasto agli incendi. Sono state impegnate maggiori risorse che ci consentiranno di potenziare la presenza di personale e mezzi rendendola più capillare sul territorio e soprattutto nei luoghi più distanti dai distaccamenti. Ha detto il presidente Schifani. Possiamo contare come regione su 120 nuovi mezzi e 190 postazioni del corpo forestale e su oltre 300 squadre di volontari della protezione civile con una dotazione aggiuntiva di ulteriori 70 veicoli. Nel frattempo prosegue il progetto della control room regionale unica per le emergenze che dal prossimo anno unirà le forze di protezione civile e corpo forestale anche con l'utilizzo di sistemi all'avanguardia per il monitoraggio del territorio in un'ottica sinergica di prevenzione. A firmare la convenzione per la regione l'assessore al territorio ambiente Elena Pagana, il capo della protezione civile Salvo Cocina, il comandante del corpo forestale Giuseppe Battaglia. Per il Ministero dell'Interno c'è il Vice Prefetto Vicario di Palermo, Anna Aurora Colosimo, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Direttore Regionale Gaetano Vallefuoco. Tra gli obiettivi dell'accordo quello di limitare l'insorgenza di danni al patrimonio naturalistico e ai beni, di contribuire alla sicurezza della collettività e di potenziare le strutture di coordinamento coinvolte, in particolare la sala operativa unificata permanente della regione. Le operazioni di spegnimento saranno coordinate dal capo forestale dei Vigili del Fuoco, con il supporto delle squadre di volontariato antincendio. Agli interventi da terra si aggiungono quelli per via aerea, con l'utilizzo di 10 elicotteri leggeri noleggiati dalla regione, e uno in convenzione con l'arma dei carabinieri, che sono dislocati in aree strategiche e potranno approvvigionarsi nelle 50 nuove vasche di rifornimento. Avranno inoltre il supporto all'occorrenza della flotta aerea nazionale canadairi ed elicotteri pesanti. Rimaniamo in tema di rischio incendi perché Federparchi ha promosso un incontro al Ministro dell'Ambiente. Sentiamo cosa è emerso. Le maggiori aree colpite dagli incendi del 2023 sono in Sicilia, oltre 45 mila ettari degli oltre 74 mila contati nell'interno territorio nazionale. Anche i dati dei primi cinque mesi dell'anno 2024 confermono una situazione allarmante, con 58 roghi già registrati a fronte dei 44 censiti nello stesso periodo dello scorso anno. È emerso durante il report illustrato nell'ambito di un incontro che si svolta dal Ministro dell'Ambiente con un focus sulla prevenzione dei rischi incendi nell'isola. Dall'incontro emerso, che sia nell'immediato che a lungo termine esistono delle soluzioni utili che possono contrastare seriamente il fenomeno, come già avvenuto in altre regioni italiane, al contempo la regione siciliana deve procedere per bandire i concorsi per nuove emissioni di unità del corpo forestale al fine di sopperire la grave carenza di personale in ambito regionale. Bisogna intervenire ora con la massima collaborazione da tutte le istituzioni per un obiettivo comune, la difesa della natura. Così Marco Mastriani, coordinatore regionale di Federparchi. Chiediamo di poter trovare insieme delle soluzioni anche con l'ausilio dei carabinieri forestali che hanno espresso la loro disponibilità a poter collaborare con la regione siciliana nel cercare di aumentare quel sistema di vigilanza, di controllo, di polizia giudiziaria, di investigazione, di repressione di questo enorme fenomeno che da diversi anni purtroppo interessa negativamente la Sicilia. Nell'incontro è emersa la disponibilità da parte dei rappresentanti del CUFA, il Circolo Ufficiale Forze Armate, un'eccellenza europea e internazionale in materia di tutela ambientale e il contrasto a riati ambientali, di poter avere un percorso di collaborazione e in generale l'arma dei carabinieri con la regione siciliana, nel corpo forestale della regione per mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità anche in campo tecnologico per percorsi di formazione e specializzazione. È importante unirsi e lavorare insieme per difendere l'ambiente, per difendere la natura e cercare già da questa stagione 2024 nelle riuscire a trovare soluzioni utili per fermare questo grave fenomeno. Con la cronaca vi parliamo dei 112 arresti eseguiti dai carabinieri del Comando Provinciale di Messina che hanno scoperto l'asse Calabria-Sicilia dedito alla droga. Hanno effettuato così una vasta operazione in tutto il territorio nazionale. 85 persone in carcere, 16 delle quali già detenute e 27 agli arresti domiciliari. Sono i numeri dell'operazione antidroga della Procura di Messina eseguita dai carabinieri del Comando Provinciale, tranne quattro misure affidate alla Polizia Penitenziaria che nasce da tre distinte indagini. L'operazione si svolta tra la Sicilia e la Calabria. I reati di cui devono rispondere a vario titolo sono associazione finalizzata alla detenzione, traffico, coltivazione, eccessione di stupefacenti, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, porto abusive e alterazione di armi, estorsione e altri reati. I dettagli sono stati illustrati questa mattina al Tribunale di Messina alla presenza, tra gli altri, del procuratore capo. Tra le indagini quella della Compagnia di Messina Sud e due della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto che hanno fatto emergere l'esistenza e l'operatività di diverse organizzazioni criminali di Messina e del barcellonese attive nel narcotraffico con collegamenti con strutture calabresi e gruppi attivi anche in campagna, Lombardia e all'estero. Le indagini hanno permesso di risalire ai canali di approvvigionamento della droga con la Calabria per la cocaina, province di Napoli e Milano e la Spagna per l'Ascish, i Paesi Bassi per lo spice, cannabinoide sintetico con effetto psicotropo estremamente dannoso per la salute. Le indagini si sono avvase di intercettazioni, di servizi, di osservazione, pedinamento con arresti e sequestri di sostanze stupefacenti e delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Durante le indagini e l'operazione, i carabinieri hanno sequestrato 120 kg di droga tra cocaina, Ascish e marijuana, 226 mila euro in contanti, ritenuti provento della vendita di sostanza stupefacente, due fucili e tre pistole con il numero di matricola cancellato, arrestato 23 persone in flagranza di reato e segnalato alla prefettura 150 assuntori di droga. Nel rione Giostra di Messina sarebbero esistiti dei fortini realizzati in abitazioni di sodali per stoccare e custodire la droga. Nel tentativo di forzare un ingresso nel 2021, un carabiniere è rimasto ferito ad un piede. Il gruppo avrebbe avuto la capacità di fatturare 500 mila euro al mese che confluivano in una cassa comune. A prima spinto giù dalle scale un operatore del gate, poi ha aggredito con morsi e calci due operatrici della sicurezza aeroportuale a rendersi protagonista di questo episodio di violenza all'aeroporto di Catania. È un 39enne straniero che è stato arrestato per violenza privata, lesione personale e resistenza a pubblico ufficiale. Il tribunale, nel convalidare l'arresto, ha disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Vi parliamo della questione della discarica chiusa a Lentini, perché dopo nel pomeriggio si svolta una riunione nel Palazzo Minoriti a Catania, nel corso della quale è stato stabilito che si va verso la riapertura della discarica. Nel frattempo è presente la Regione che ha firmato questa ordinanza per scongiore il rischio emergenza a rifiuti. Ha incontrato i commissari giudiziali della sicurezza trasporti per condividere le modalità di applicazione dell'ordinanza. Per tutti i dettagli sentiamo allora questo servizio. Riapre l'impianto TMB di Lentini, ma solo per consentire lo stoccaggio dei rifiuti, una procedura temporanea di 20 giorni in attesa di poter tornare a operare come prima della sentenza di chiusura del tribunale. E' questa la soluzione trovata nella tarda serata di ieri al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani nella qualità di commissario straordinario per i rifiuti, che ha firmato un'ordinanza e consente la ripartenza e la raccolta dei rifiuti nei circa 200 comuni coinvolte allo stoppo dell'impianto. Una soluzione temporanea che è arrivata grazie all'approvazione di due pareri da parte del Nucleo di Coordinamento della CTS, in base ai quali sono esclusi dalla via i progetti presentati a Sicula Trasporti per la modifica degli impianti di biostabilizzazione della frazione umida e di trattamento meccanico di rifiuti urbani non pericolosi. L'integrazione documentale è fornita all'azienda, infatti permesso alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione di rivalutare positivamente le richieste respinte nel dicembre scorso. E in attesa di questa autorizzazione è stato stabilito che in maniera temporanea e dunque per 20 giorni i rifiuti continueranno a essere stoccati e trattati in apposite aree nell'impianto di Lentini sotto lo stretto monitoraggio e controllo degli organi competenti. Un provvedimento di emergenza che prevede anche che i titolari degli impianti disponibili a collaborare avvino le procedure per la cosiddetta omologa, un processo che in base alle caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche dei rifiuti consentirà di abbancarli nei propri impianti e limitatamente agli spazi disponibili. Schifani ha anche stabilito che venga definita la procedura che consentirà la prosecuzione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti trattati da Sicula Trasporti per l'invio presso altri impianti fuori Regione. In questo modo, conclude il Governatore Schifani, evitiamo rischi per la salute pubblica dovuti anche alle alte temperature degli ultimi giorni. Un provvedimento straordinario e provvisorio supportato da pareri sanitari e ambientali in attesa della conclusione del percorso che porterà alla riapertura dell'impianto di Lentini. E il Sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha visto questa emergenza dei rifiuti con la chiusura della discarica di Lentini che serve 200 comuni dell'isola, ha chiesto la massima collaborazione ai cittadini nel sapere differenziale i rifiuti. Non usa mezzi termini. Il Sindaco di Catania, che in un posto su Facebook ha preso della firma dell'ordinanza da parte del Presidente della Regione per fronteggiare l'emergenza dei rifiuti, scrive Il rispetto e le regole non può passare attraverso le sole iniziative sanzionatorie che non potranno mai essere sufficienti mettendo a confronto l'esiguità dei nostri operatori deputati al controllo e la dimensione del fenomeno. Dipende da noi catanesi se vivere da uomini è tra uomini o tra blatte e ratti. Già in molti quartieri abbiamo una condizione insostenibile, cerchiamo di non aggravare quello che già purtroppo viene avvertito come una condizione di insalubrità, di fastidio, di disagio in cui vanno poi nel mezzo quelli che non c'entrano e cioè magari quei ragazzi, quei bambini, quegli anziani che appartengono a famiglie che probabilmente rispettano le regole e non è giusto che paghino per quei pochi incivili che invece ancora non ti sono convinti a dovere rispettare. Quindi cerchiamo di far nascere come abbiamo detto prima questo nuovo rapporto in cui differenziare si capisce possa significare anche un risparmio di costi che si trasformi inevitabilmente in una possibilità di maggiore erogazione di servizi da parte del comune che significano strade che significa marciapiedi che significa verde. Dunque ancora un appello del sindaco affinché ci sia collaborazione da parte dei cittadini che devono differenziare bene cosa che però non tutti fanno è la dimostrazione dell'alto numero di sacchetti con i bollini di rifiuti non conformi e poi vari cumuli nei quartieri di rifiuti indifferenziati e per quanto riguarda la sperimentazione nei mercati con la differenziata direttamente in loco è andata bene a metà se gli operatori della fiera hanno risposto bene peggio è andata alla pescheria. Oggi secondo giorno di sperimentazione è una mara costatazione che arriva proprio dal sindaco. Mentre gli operatori storici quindi un po' più grandi hanno rispettato le regole gli altri hanno pensato bene di fare quello che hanno voluto lasciando ai confini della fiera una serie indifferenziata di rifiuti che naturalmente non abbiamo potuto raccogliere procurerà cattivi odori ma non è colpa mia peggio per quelli che l'hanno seminata anche se purtroppo ci vanno di mezzo incolpevoli. È stata denunciata la presenza di rifiuti anche Ethernet all'interno di un terreno di proprietà di un imprenditore agricolo che però lo ha dato in affitto a due ditte. Il comune di Cicli sta per effettuare i carotaggi come avevamo anche noi anticipato nel frattempo però proprio su quei terreni c'è una richiesta di realizzazione di una discarica di inerti e sono arrivate anche le osservazioni di lega ambiente. Facciamo il punto in questo servizio. Sta per essere definita la data esatta per eseguire i carotaggi per analizzare che tipo di materiale c'è nel sottosuolo in un terreno di contratti attrippatore del comune di Cicli di proprietà di un imprenditore agricolo Giorgio Chichipinti il quale ha ceduto i fondi a sua detta a due ditte per estrarre la pietra della cava. È stata denunciata la presenza di rifiuti pericolosi come Ethernet su cui il comune ha garantito in tempi brevi le verifiche. Sappiamo gli enti che sono stati coinvolti in questo genere di operazione e quindi dagli sondaggi dal tipo di materiale rinvenuto nel sottosuolo poi stabiliremo anche come muoverci sia per portarlo in discarica per vedere che tipo di materiale è e soprattutto che tipo di conferimento bisognerà fare se è un conferimento normale o se è un conferimento speciale e quindi dove andrà a finire. Poi per quanto riguarda le indagini è chiaro che queste non sono di competenza del comune ma chiaramente saranno di competenza delle forze dell'ordine e stabiliranno poi che tipo di intervento fare. Una nota di legambiente Chiafura Scicli a firma della Presidente Alessia Gambuzza ha rilevato che nei terreni in questione c'è una richiesta da parte della società Multiservice per realizzare una discarica di inerti per la quale la sovrintendenza ha dato parere negativo. Legambiente e altre associazioni stakeholder hanno avuto tempo fino a ieri per presentare le osservazioni. Legambiente l'ha fatto definendo l'ubicazione impropria inopportuno contro legge dell'insediamento produttivo in area di pregio paesaggistico ambientale e insediativo con forti carenze degli elaborati probabilmente dovuto proprio all'impossibilità di superare le obiezioni provenienti dagli stessi luoghi indicano al rispingimento in toto della proposta si legge nell'osservazione di legambiente. Non risultano ha rilevato l'associazione ambientalista presi in considerazione i potenziali impatti su suolo flora fauna paesaggio non risulta dal materiale disponibile una tavola grafica né uno studio idrologico si legge nella nota degli ambientalisti gli stessi terreni sono interessati a un secondo progetto che ha superato il valore della ragione ma entrambi sono bloccati per causa giudiziaria tra i soggetti interessati. Chiedono una legge sulle concessioni balneari che si dichiarano non preoccupati in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la prologa del termine per la presentazione della domanda di rinnovo delle stesse concessioni. La sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la proroga del termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni balneari della regione Sicilia non preoccupa i balneari come spiega Ignazio Ragusa presidente Sib Sicilia nonché membro della giunta di presidenza nazionale quella contestata è una norma del passato la regione siciliana infatti si è già da tempo allineata con le scelte del governo centrale a cui adesso tocca legiferare per trovare una soluzione a questo corto circuito legislativo e giudiziario non è più attuale è una sentenza che insomma non fa gioco la norma siciliana è stata una norma che ha rimesso in gioco chi ancora non aveva manifestato l'interesse a proseguire l'attività però tutti coloro che hanno fatto la scelta prima che il Consiglio di Stato si pronunciasse insomma hanno già espletato l'iter e quindi non sono soggetti a questa sentenza e questa sentenza tocca pochi soggetti la regione si è ormai allineata a quella che è la visione del nazionale e la cosa più importante è quella che noi già da tantissimo tempo diciamo è che è il governo che deve legiferare e dare garanzie per il miglior utilizzo delle aree demaniali per intenderci chi sono quei pochi che potrebbero essere colpiti cosa hanno sbagliato? no no non hanno sbagliato niente non hanno manifestato l'interesse e quindi se hanno in mano un documento che estende al 2033 non dovrebbe secondo questa sentenza essere valido voi sottolineate anche che non siete degli abiusivi in queste spiagge avete tanto di autorizzazione per stare appunto ad occupare il demanio c'è l'autorizzazione e il Consiglio di Stato si è pronunciato dando tecnicamente dando come prevalente l'interesse del privato perché garantisce la sicurezza in mare garantisce la pulizia e l'ordine pubblico e garantisce anche il versamento dei canoni che sono poi stati anche messi a bilancio quindi chi è che opera lo fa legittimamente sarà formalizzato domani nel corso di una riunione all'assessorato regionale al lavoro il passaggio dall'ex BluTech al gruppo Pelligra Italia SRL dello stabilimento di Termini Merese all'incontro saranno presenti i commissari straordinari dell'ex BluTech il gruppo Pelligra i rappresentanti di FIM, FIOM e WILM per i sindacati dovranno essere garantiti tutti i lavoratori attraverso un piano industriale strutturale così come previsto dal bando garanzie sia per i lavoratori che saranno impegnati nella nuova realtà sia i lavoratori che si trovano nelle condizioni di poter essere accompagnati alla pensione chiederemo garanzie dicono i sindacati anche per i 140 lavoratori dell'ex indotto BluTech stamane c'è stato un altro incontro all'assessorato regionale anche alle attività produttive vi parliamo di caporalato con le oltre 10.000 richieste di contatto in tre anni all'Help Desk Supreme che è stato aperto su iniziativa dell'assessorato regionale alle politiche sociali sono state circa 10.000 le richieste di informazioni e di ascolto arrivate negli ultimi tre anni all'Help Desk anti-caporalato del progetto Supreme per la prevenzione e il contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura 2.000 i casi presi in carico dagli operatori e tra questi 192 hanno riguardato vittime accertate di sfruttamento lavorativo che sono state ascoltate e orientate ai servizi di emersione e protezione garantendo loro il supporto necessario un bilancio tracciato nell'ambito del programma interistituzionale che vede collaborare tutte le regioni del sud con la sicilia capofila assieme al ministero del lavoro e delle politiche sociali direzione generale immigrazioni il programma Supreme ha messo a disposizione di oltre 15.000 beneficiari numerosi dispositivi e strumenti per affrancarsi ed emergere in una sfera di diritti e dignità un dato che fa riflettere ha detto l'assessore al lavoro e alle politiche sociali della regione sicilia Nuccia Albano è che il 55% delle chiamate proveniva dalle regioni del centro nord confermando che il caporalato è una piaga nazionale l'helpdesk anticaporalato è un servizio multicanale multilingue specialistico che attraverso un numero verde 800 939 000 un messaggio whatsapp al numero 350 90 92 008 o uno dei numeri canali sociali collegati è in grado di raccogliere segnalazioni e denunce dei lavoratori stranieri sfruttati accompagnandoli verso una rete di servizi a loro disposizione e fornendo loro ogni forma di tutela legale è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30 e risponde in 15 lingue ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria siamo da tra poco ancora ben trovati in studio per la seconda parte di MTG il nuovo direttore generale dell'ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone ha incontrato una stampa per accompagnarla nella nuova struttura dell'ospedale Umberto I Un nuovo edificio dell'ospedale Umberto I di Siracusa per l'avvio dell'operatività del reparto di rianimazione nella nuova sede creata per liberare locali in cui nascerà il nuovo pronto soccorso questa mattina il direttore generale dell'ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone che si è da poco insediato ha incontrato la stampa per illustrare i dettagli di quella che è la nuova palazzina per la terapia intensiva dell'ex struttura commissariale nell'area di emergenza dell'ospedale Umberto I il reparto di rianimazione diretto da Francesco Oliveri è entrato in funzione nella nuova collocazione dotata di impianti di ultima generazione radiologia e apparecchiatura TAC anche per gli utenti esterni l'attivazione della rianimazione consentirà già nella prima settimana di luglio il trasferimento del pronto soccorso nella sua sede originaria ristrutturata e ampliata con i locali della terapia intensiva e conseguentemente potrà rientrare finalmente da Avola a Siracusa il reparto di oncologia la vera inaugurazione la faremo fra una decina di giorni perché questo spostamento ci ha consentito di liberare degli spazi interni al plesso principale dove si trasferirà il pronto soccorso ci sono 18 posti letto di terapia intensiva all'interno c'è anche un'area radiologica con una TAC e un telecomandato radiologico che noi metteremo a servizio non soltanto dei ricoverati di terapia intensiva ma anche dell'utenza esterna questo comunque nel rispetto di percorsi differenziati che garantiscono entrambe le tipologie degli utenti Nei prossimi giorni intanto saranno pubblicati sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana due concorsi pubblici per titoli ed esami indetti dall'ASP di Siracusa per l'assunzione a tempo indeterminato di 150 unità di diverse qualifiche e risultate vacanti rispetto al piano del fabbisogno aziendale Si sono detti delusi i cittadini ragusani sul servizio di trasporto pubblico locale le loro rimostranze in questo servizio Cercate di modificare questo tipo di trasporti perché così non va Il trasporto verso Ragusa Ibla in occasione di un evento culturale non ha soddisfatto gli utenti la denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle che ha raccolto le denunce dell'utenza utenza che ha raccontato ai nostri microfoni i disagi patiti Io purtroppo ho delle difficoltà alle gambe e ho sofferto tanto per andare a Ibla dopo un'ora e mezza di aspettare già arrivato a Ibla ero già stanco e non ho potuto godere lo spettacolo Non abbiamo neanche visto bene tutto lo spettacolo i pullman che si pagava 1,20 euro i pullman che si pagavano 50 centesimi che poi ne erano andate in ritorno 1,30 euro l'autista che doveva mettersi a disposizione di fare l'autista il contasoldi far salire le persone con i passeggini con i bambini fare il biglietto dare il resto si fa il biglietto prima come sempre e poi ci si mette in fila garbatamente e si sale in pullman Testimonianze raccolte anche dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Sergio Firrinceli che parla di un servizio di trasporto che si è rivelato un flop per l'occasione della festa della musica ci sono stati problemi grossissimi con il trasporto gente che ha atteso più di un'ora e mezza per poter arrivare a Ibla nella giornata di sabato si sono perse naturalmente occasioni economiche anche per i commercianti di Ibla tutto ciò va rivisto l'assessore aveva comunicato dei prezzi dei biglietti che non ha specificato essere invece quelli solo per l'acquisto del ticket tramite applicazione sugli autobus si è dovuto pagare con i soldini spicci l'autista è stato lasciato solo a se stesso con la difficoltà di dare il resto in centesimi quando 20 quando 40 e tutto ciò naturalmente ha fatto allungare le file che sono diventate interminabili e tutto questo naturalmente non è piaciuto ai nostri concittadini segnalato una copiosa perdita d'acqua sotto la copertura dell'alveo a Modica all'altezza del quartiere Vignazza la denuncia arriva dal Partito Democratico da una parte l'appello di Blea Acque ad adottare comportamenti virtuosi nel consumo d'acqua a Modica per l'abbassamento del livello idrico nella sorgente caffèo dall'altra lo spreco che si consuma sotto la copertura dell'alveo all'altezza del quartiere Vignazza dove da circa tre anni i cittadini denunciano una copiosa perdita d'acqua a nulla sono valse le PEC le denunce e gli appelli al Comune dei cittadini e di due esponenti del Partito Democratico Salvatore Poedomani segretario cittadino e Giovanni Spadaro consigliere comunale che da circa sette mesi si occupano della problematica nonostante nonostante le denunce nonostante le PEC che i responsabili del quartiere hanno fatto alla sindaca al sindaco precedente all'assessore alla manutenzione Berluardo non si è mosso mai nulla non gliene frega assolutamente nulla noi ci permettiamo di perdere giornalmente nel corso degli anni milioni di litri d'acqua quando ci dicono in questo momento che dobbiamo centellinarle l'uso che il livello della sorgente caffèo si sta abbassando verticalmente che addirittura c'è il rischio di prosciugamento della dica di Santa Rosalia noi porteremo questa battaglia fino a quando vedremo questo flusso chiuso l'acqua che scorre dicono poi domani e Spadaro pare sia stata contaminata per la fuoriuscita anche di schiuma ieri pomeriggio si è verificata inoltre un'altra perdita questa volta di acqua e reflue dopo la prima interrogazione a gennaio del consigliere Spadaro ad aprile dopo la lettera di un cittadino inviato al comune interviene Iblea Acque che sostiene di aver riparato la perdita nulla di tutto questo dice Spadaro è stato fatto ci comunicavano appunto che il problema era stato risolto nel giro di qualche giorno invece noi abbiamo notato e continuiamo a notare che la perdita d'acqua c'è sempre per di più ora come abbiamo visto c'è anche il liquame che sembra schiumoso e quindi sembra essere non solo perdita di acqua potabile ma anche qualche perdita di fognatura quindi a questo punto noi chiediamo veramente che si interessano gli enti preposti per risolvere il problema che ripeto come abbiamo sempre già detto è da tre anni che i cittadini lamentano questa perdita e questo problema e che ad oggi non si è mosso ancora nulla è davvero tutto con questo servizio grazie per la cortesia attenzione a voi tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti